Il presidente della regione Marche terrà per sé le deleghe della sanità e del sociale almeno per i primi tempi. Lo ha detto lo stesso Ceriscioli, annunciando oggi ad Ancona la ripartizione delle deleghe tra i sei assessori della sua giunta, tre donne e tre uomini, quattro del PD, un socialista espresso dalla lista Uniti per le Marche e un'esterna dell'area Udc Popolari. Secondo il presidente, non è stato semplice redistribuire per sé le deleghe pensate per dieci assessorati. Molte poi sono le novità del nuovo esecutivo, a partire dall'equa rappresentanza di genere con addirittura un vicepresidente donna, Anna Casini. Non esiste la sintesi che accontenta tutti, però esistono percorsi possibili e credo che dentro questo campo abbiamo fatto il massimo per tenere insieme le tante cose che vogliamo unire, le tre donne e i tre uomini, le competenze, i territori, tutte le province hanno un loro rappresentante e anche le diverse anime politiche all'interno della singola forza. Ad Anna Casini sono state affidate le deleghe per i lavori pubblici, l'urbanistica e le infrastrutture. A Manuela Bora quelle dell'industria, politiche europee e pari opportunità. Fabrizio Cesetti si occuperà del bilancio. Turismo e cultura a Morino Pieroni, mentre ad Angelo Sciapichetti vanno le deleghe al trasporto e all'ambiente. Lavoro e istruzioni infine a Loretta Bravi, unica esterna in giunta. Io ringrazio il presidente Ceriscioli che ha creduto in me, ringrazio tutti quelli che mi hanno portato fin qua a partire dal mio partito. Spero di rappresentare e di onorare soprattutto i miei territori e nello stesso tempo per le deleghe che mi ha dato di mostrare la competenza e dove ci saranno un pochino più di problemi, dove la delega è onerosa come quella del lavoro, cercherò di incontrare gente e sempre di partire dai giovani. Da domani tutti gli assessori saranno già al lavoro per raggiungere gli obiettivi prefissati dal presidente Ceriscioli, illustrati ieri durante la prima seduta del Consiglio regionale. Nessuno di noi aveva mai partecipato ad una giunta regionale, quindi ridifiniamo anche lo stile e il modo di fare e da subito gli obiettivi per i primi 300 giorni, quindi già gli assessori si metteranno in moto da domani per realizzare quello che abbiamo promesso ai marchigiani per l'inizio di mandato.